Perché Sanremo è Sanremo Sanremo Live Grazie Ciao Eva, sei ai microfono di Melito TV da Reggio Calabria Perfetto, viva la Calabria Prima di tutto devo chiederti come stai e come stai vivendo questo festival Allora, come dicevo sono molto molto emozionata Non vedo l'ora di salire sul palco dell'Ariston Quindi è un'emozione positiva, non negativa Però diciamo che un po' di strizza si fa sentire sempre di più Una domanda sui tatuaggi Dei big, chi vorresti tatuare e che cosa gli vorresti tatuare? Allora, guarda, ieri sera ero a cena con Gazze Che mi ha chiesto se lo posso tatuare Quindi vediamo Tra le altre cose, io ho appena fatto l'intervista con Max Quindi, che parla insomma di questa sirena Ti ha chiesto qualcosa del genere? No, non mi ha ancora detto il soggetto Però mi ha chiesto, mi ha detto che gli piacerebbe un tatuaggino da meglio E ho detto, guarda, ho anche portato la macchinetta qui a Sanremo Quindi in casa lo facciamo A proposito, ti piacerebbe fare qualcosa con lui o con qualche altra artista? Assolutamente sì, c'è solo da imparare da lui come da tantissimi altri artisti O da tutti i big che abbiamo qui Quindi facciamo un saluto agli amici di Melito TV Un saluto agli amici di Melito TV, un bacione Ciao Sanremo Live